amici di milan.soccer eccoci con un nuovo appuntamento dedicato all'informazione rossonera prima di cominciare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto è gratuito di mettere un like un pollicione a questo video e di dare un'occhiata più in basso link in descrizione tutte le varie opportunità che si presentano a voi questo è il vostro canale l'ho sempre detto il nostro canale c'è la possibilità di essere qualcosa di più che un semplice spettatore date un'occhiata al sito www.milan.soccer possiamo cominciare allora innanzitutto vi dico direzione sanremo chi mi segue lo sa per lavoro dovrò essere a sanremo e dunque domani e dopo domani vedremo un po diciamo così di ovunque milan siamo stati in america adesso siamo a sanremo insomma parleremo però sempre di milan portiamo il milan a sanremo per carità c'è stato ibra quindi chi più di lui ma ci saremo anche noi sarà una settimana importante perché c'è un incontro un match che non stiamo a guardare dobbiamo accumulare punti per arrivare quanto prima possibile all'obiettivo che ci siamo dati un obiettivo che è quello minimo di entrare nel novero della champions league in questo momento siamo a più 13 punti quindi dobbiamo continuare anche perché non dico che il napoli è una diretta avversaria però potrebbe esserlo visto che mancano ancora tante partite chi di voi crede a qualcosa di più me lo faccia sapere tra i commenti per quanto mi riguarda io guardo direttamente alla questione relativa all'europa league e relativamente all'europa league è uscito un articolo che sinceramente un po' mi infastidisce perché il titolo è il milan l'europa league il milan e l'europa league piccola consolazione ora io ho una buona memoria per cui ricordo perfettamente che qualche tempo fa quando ad andare in finale a poter vincere la europa league poi persa in finale dall'inter la stessa lo stesso giornale titolava un'occasione memorabile beh da una parte memorabile io capisco è capisco quindi un po' mi arrabbio ma un po' condivido perché per la storia dell'inter sicuramente l'europa league è memorabile per la storia del milan è una piccola consolazione però ho cercato di capire perché poi il cuore il sentimento mi porta ad avere non reazioni scomposte quelle difficilmente ce l'ho però fondamentalmente mi porta ad essere un po' più nervoso e leggevo quest'articolo in cui dice che il milan sta correndo al ritmo di scudetto perché in effetti le ultime partite noi abbiamo avuto periodo di crisi peccato ci mancano almeno 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 quattro punti oggi saremmo alla pari di juventus abbiamo accelerato e dunque ci troviamo ad inseguire con un più otto da parte dell'inter è una partita in meno è un più quattro rispetto alla juventus però la questione è un po' più complicata il milan conosce il valore di quella che è l'europa nobile così la definisce l'articolo e cioè la champions league caspita se la conosciamo meglio di tutti in italia e conosce anche il valore della europa league in questo caso prima dell'eliminazione ai gironi aveva incassato euro più euro meno 61 milioni tra partecipazione ranking risultati nel gruppo market pool e poi anche il botteghino meno della metà dell'anno scorso quindi la champions non è solo quella sigletta che si sente all'inizio della partita ma è molto di più e garanzia di incasso soprattutto percorrere la strada della grande europa conduce ad un tesoro che porta un po' più in là soprattutto alla vigilia di un calcio mercato che sarà quello estivo un anno fa oggi la squadra preparava gli ottavi di finali di champions league contro il tottenham erano valsi esattamente 9 milioni e mezzo e stavolta chiaramente questo importo non può essere diciamo così preso in considerazione per quanto riguarda l'europa league ripaga solo in piccola parte che si fa un po' più consistente in caso di vittoria del trofeo essere tra le 32 squadre che si sfideranno nei sedicesimi ha portato in cassa 500 mila euro quota che sale a un milione di euro 1 milione 200 mila euro per la precisione agli ottavi ancora 1 milione 8 per chi accede ai quarti di finale 2 milioni 8 a chi si qualifica in semifinale alle finaliste 4 milioni e 6 e altri 4 alla vincente totale 14 milioni e 9 a cui si aggiunge si possono si aggiungono i soliti guadagni dal market poll i premi risultato eccetera eccetera ma facendo una somma totale non dobbiamo dimenticare che la fuoriuscita dalla champions league ci ha posto anche al di fuori del prossimo mondiale per club della fifa rinunciare a una vetrina così importante determinante per un progetto di crescita del brand ha fatto sì che cardinale si infuriasse ed è per questo che alla fine ha bloccato tutto ha dovuto dare comunque risposte perché ricordiamoci che lui è a capo di un fondo e quando sei a capo di un fondo devi comunque dare un valore devi comunque dare risposte agli investitori soprattutto in questo caso il club dovrà fare a meno di 45 milioni di euro che sono garantiti alle partecipanti e quindi in tempo come dire di autofinanziamento oggettivamente mi sembra un colpo non indifferente il calcolo che è stato fatto tra tutte le questioni semmai il milan avesse vinto semmai milan fosse arrivato in finale è l'importo che vedete in copertina circa 100 milioni di euro e quindi questo è il motivo della rabbia che ha spinto gerry cardinale a prendere questa decisione cioè la decisione è ora ci fermiamo e valutiamo come autofinanziarci considerando che mancano 100 milioni rispetto ad un progetto che lo stesso gerry cardinale furlani moncada avevano in testa e che purtroppo diciamo non si è realizzato questa situazione ha fatto sì anche che gerry cardinale si ponesse il dubbio o comunque la possibilità di dare il milan a qualcun altro perché semmai si dovesse ripetere e questa volta dobbiamo stare molto attenti ecco che non verrebbe considerato dal fondo un buon investimento e quindi buona la prima così così la seconda ma mai e poi mai ci potrebbe essere una terza una terza possibilità quindi così abbiamo voluto capire quale è il motivo dello stress come ha detto gerry cardinale qual è il motivo della sua rabbia qual è il motivo del mancato del mancato calcio mercato perché la vittoria di un europa league per noi importante per lui finanziariamente non è altrettanto importante e allora bisogna arrivare alla fine di questo campionato proviamo a vincerla avete scritto tanti commenti ci sono squadre più forti lo sappiamo benissimo però insomma l'anno scorso l'avete visto l'avete sentito anzi quello che ha detto de laurentis noi puntavamo a vincere la champions league d'altro canto l'inter che è arrivata in finale e era 20 punti sotto la stessa lo stesso napoli che poi ha perso come sappiamo molto bene noi contro il napoli non è arrivato nemmeno in semifinale stiamo a vedere quello che succederà per però è fondamentale cercare di capire quali sono gli umori e soprattutto su cosa si basano questi umori come come sempre abbiamo detto da una parte ci siamo noi che abbiamo sete di trofei dall'altra c'è invece gerry cardinale che ha sete di denari ci sentiamo più tardi per altre notizie ciao